Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Tiff Simulator Lo so, l'ho portato ieri con il primo episodio Però è un gioco che mi sta attizzando Quindi voglio subito portare un altro episodio Anche perché siamo nel weekend E poi domani riprendiamo con la programmazione E potenzialmente, non so se stasera o domani sera Inizierà la nuova serie delle 7 Se riesco a trovarne una bella, decente, una mappa nuova Anche stasera Altrimenti rimando a domani Perché la cerco oggi e la registro domani Tra l'altro ragazzi, i commenti che lasciate mi fanno scassare L'ultimo commento fa Grande, su, ora ti posso dire se puoi fare il politico oppure no Cioè, tutte le robe così Commenti, cioè, spaziali ragazzi Allora, io devo comprare Dov'è? Attrezzi per ladri Non una torcia Un grimaldello Perché non posso? Richiede aprire serratura a livello 1 Eh, ma io ce l'ho aprire serratura a livello 1 Scusa, l'ho preso prima L'ho comprato Abilità Aprire Serrature Ah, non me l'ha salvato Ok Aprire serratura a livello 1 Ora devo Sì, Vinny, io ti rispondo anche Però, porca vacca Sì, vai a comprare Vai a comprare il grimaldello Boom Grimaldello semplice Acquistato Andiamo ad usarlo Andiamo ad usarlo Basta, Vinny, basta Mi hai rotto Ah Prova su un lucchetto di esercitazione Ok E dov'è? Eccolo Ho lasciato uno nel garage Eccolo qui Serratura semplice da Attenzione C'è un grimaldello semplice Devi trovare l'angolo giusto con la forcina Come faccio far ruotare la forcina Cioè Dov'è proprio l'angolo giusto e preciso Anche se non funziona propriamente così, eh Per scassinare una Ah, ok Ok Ecco qua Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ho capito Devo andare al 111 Prima delle 7 di mattina Attenzione Ah, perché posso osservare le persone Ho capito Che ore sono ora? Sono le 14 Allora devo fare così Devo andare a dormire Andiamo a dormire Dormiamo fino alle 6 di mattina Mamma mia Dormo 20 ore Posso scegliere di dormire 20.000 ore Porca vacca Davvero Va bene Ora che sono le 6 Ah, cacchio, ma il tempo va velocissimo Va bene Andiamo al 111 Greenview Street Non ho paura di rubare, ragazzi Ce la facciamo? Purtroppo il caricamento è un po' lento, eh C'è da dire Ah, il 111 è di là No, come va il Greenview 111 intorno alle 19? Ma no, come intorno alle 19? Ce l'ha scritto entro le 7 7 spessavo di mattina Che cacchio Ma come faccio? Ah, da qui posso salire? Posso comunque marcarlo Attenzione Ho scoperto la routine Del inquilino Ottimo Dimmi, Binny Devo prendere una scatola là dentro Ho capito Stiamo calmi Stiamo calmi Posso dormire nei parcheggi? Ah, ok C'è una scatola importante all'interno di questa cosa Poi c'è solo un inquilino, giusto? Sembrerebbe esserci solo un inquilino Che va via Che ora? Allora, uno degli inquilini sta fuori tutto il tempo Uno tra poco esce Cioè, se me esce verso le 8 Ma guarda, sta cagando Ma no, si sta seduto e non fa nulla Certo, ma quando è che passiamo a delle case belle? Capito che qua Non sto boccando il traffico, vero? Forse potrei boccare il traffico Allora approfittiamone Andiamo un po' avanti Così non arriva il Range Rover Che poi si lamenta Che, ah, ti sto rovinando la pesta Eh no Ok Andiamo un occhio Ancora lì che non fa nulla Quando è che esci di casa? Ma sai che quasi quasi Provo ad andare anche senza Ah, ti abbassi in un posto bislacco, eh Eh, ti abbassi Oh mio Dio Siamo calmi Io non vorrei Dove è un parcheggio qua, scusa? Perché questi non dormono mai nella vita Ciao bella T'ha a posto? Eh, ma non ci sono un parcheggio Come faccio a dormire? Vai, passa pure attraverso le portiere Eh, tranquilla Posso dormire? Apri, apri lentamente Non mi sembra tanto lentamente Scusa ragazzi Ma voi vedete Un qualche tipo di Non lo so Un parcheggio? Eccolo il parcheggio Non l'avevo visto, cacchio Perché qui ce ne vuole ancora un po' Ah no, non è vero, non è vero Se ne sta per andare Ecco, magari però parcheggiamo comunque nel parcheggio Così non esci di casa E non mi trovo ad aspettare Che qui se ne vada Ok, guarda qui Per futuro è che non ho la patente, eh Guarda qui Parcheggio perfe... Più o meno Più o meno Andiamo a vedere Ciao amico Non sto per niente correndo Accanto a casa tua Oh ma quando te ne vai? Va bene andiamo a dormire, ho capito Sono le 9 Ah, ok È alle 9 che se ne va Non m'ha visto? Non m'ha visto Bella lì Mi ha lasciato pure la porta aperta? Che gentil uomo Grazie per aiutarmi A rubare la tua roba Ok Ora devo Aprire Il tutto Vai, vai Vai ancora No Ho rotto il Grimaldello Ho rotto il Grimaldello Porca puttana Esci Esci, esci Porca puttana E questo è un problema ragazzi Ah, ehi Per uscire Devo tornare a casa E prendere il Grimaldello E tornare qui È un po' una cagata, vero? Devo comprarmi le due o tre Di Grimaldelli Secondo Le sbarra le finestre Che non è che dice Che potevo fare chissà cosa Vai Andiamo a casa E andiamo a comprare Un altro Grimaldello Perché non c'è un tablet Da cui comprare le cose? Ecco, sono già le dieci Sicuramente si è tornato a casa Allora, Grimaldello Vai Compriamo nei tre Di Grimaldelli Così non abbiamo problemi Pissà se è ancora via da casa Che rapate posso fare? Attenzione Allora, io mi metto comunque Nel parcheggio Così se c'è bisogno Sì, non è proprio Il parcheggio meno della vita Per questi ragazzi C'è qualcuno ancora in casa? Non c'è nessuno Va bene Tra un po' torna Qualcuno però Allora Vai Aperto Schere Televisore è mio Ah no, cacchio Aspetta Lascialo lì Prima prendiamo la scatola Boom Scatola con contenuto Bene Qualcos'altro da rubare? Veloce, veloce La pentola La pentola Il ketchup Non mi interessa Qualcos'altro da rubare interessante Cos'è sta roba? Apri Soldi 50 dollari 100 dollari Ah sta prendendo la casa qualcuno Veloce, veloce, veloce La radio Va bene Prendiamo la tv e andiamo via Prendi la tv Prendi la tv E andiamo via Veloce Prima che torni qualcuno Apri la porta Via, 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 via Portala Chiudi qua E andiamo via Mamma mia Quanto Ah no Non sto per niente rubando Non sto facendo niente di losco Signora bella Non sto facendo assolutamente Hanno chiamato la polizia Veloce Veloce Entra nella porta Oddio ho paura Via No Mi hanno beccato No La polizia Mannaggia a me che ho voluto Prendere anche la tv Oh cazzo C'è gente in casa Oh no Ah si si Non c'è nessuno Ok Ho rotto un grimaldello In più Però non è un problema Dove erano i soldi No Erano qui i soldi Veloce Boom Cento dollari per me Boom Prendi anche la pentola Boom Prendi questo Io voglio anche la tv però Che cacchio Proviamo a portare la tv Scusa Che mi frega Andiamo Via, 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 via Allora C'è qualcuno qui Che mi sta guardando anche Proviamo a lanciare La posso lanciarla Tipo Sì sì, il costo di riparazione è un dollaro per aver rotto un coso, questi cazzi, dai Allora, andiamo a casa, perché non voglio portare al banco dei pegni quello, secondo me è quello Anzi no, non si può portare al banco dei pegni, cosa dico? Valutazione C? Quale è la valutazione C? È vero, avrei potuto rubare altra roba, però Che vuol dire? Allora, andiamo a vedere se si può vendere sto coso Amici, Black Bay Ricambi auto, elettronica, no, no Scatola con contenuto sospetto, 100 dollari, bitch, mi sono fatto 200 dollari con sta roba Dimmi Vinni, che c'è, porca vacca Ah, ma ora è successo, sono anche un mafioso, devo rompere la finestra al Greenview 101 Lavoro accettato, rompigli la finestra, e rompiamoli la finestra, che ti devo dire? Vai, aspetta, devo vendere anche, c'ho anche una pentola a vendere io Non posso vendere su Black Bay la pentola No, no, e devo andare al banco dei pegni per vendere la pentola Scusa, ho rubato una pentola, fammela vendere, che cacchio, dai su Banco dei pegni Buondì amico russo Come back Vai, vendi, vendi E ci siamo, tutti i soldi per noi E ora andiamo a rompere una finestra al 112, ma al 102 Cioè, voglio dire, che cacchio Non puoi dimmi una volta 102 al telefono e poi mi dice 112, io poi non capisco assolutamente nulla Il 112 Dove sarà mai il 112? Seguiamola, ah, in fondo dall'altra parte Grappata, bitch Ok, forse devo, sto esagerando un po' con la velocità Ciao, buongiorno C'è un parcheggio per caso? Non c'è un parcheggio E come faccio senza parcheggio? Non è un problema Non è un problema Posso nascondermi qua dentro? Se non è sì Apri Nascondiglio Allora, vedi che posso? Allora, questo è il 112, signori Devo fare una foto di sta roba? Microcamera Porca C'è una microcamera? Ah, posso collocare una microcamera? Allora, devo rompere la finestra Va bene Vuma Oddio Oddio, oddio Allarme Nasconditi Nasconditi Uh, mi sono nascond... Calma Ma questi ora mi beccano Non posso nascondermi Scappare non ce la facevo mai nella vita Ah, beh, non è vero Forse ce la facevo, sai La polizia sta arrivando ora Ah, non è vero Sono due poliziotti Guarda lì la minima app In basso a sinistra Poi c'è l'immondizia Che schifo Puzzerò tantissimo una volta uscito da qui Comunque, aspettiamo Che la polizia arrivi E dica Hai, tranquillo, signor Watson Ehm, aggiungeremo una pattuglia Non lo so Cosa gli posso dire Che gli può dire un poliziotto? Ecco la polizia che arriva Guardalo, ah Non è che mi sequestrano la macchina? Cacchio, io non so come funziona Ma beccato Perché ero vicino alla macchina Porca vacca Giustamente Ciao amico Tutto bene? Sì, voglio Solo un attimino Sai, cambiare La posizione della mia macchina Eh sì, no È che non mi funzionava Non mi funzionava Il motore Per quello, eh Non per altro Non c'è un parcheggio qua, scusa Devo nascondere la macchina A qualche parte Mettiamo la macchina qui Bella parcheggiata Così non rompe il kaiser a nessuno Sono tutti contenti Io mi nascondo là nel cestino Tutti contenti Oh no Posso lanciare un sasso? No, non posso lanciare un sasso Buongiorno amici Ciao, tutto bene? Tutto bene? Spero di sì ragazzi Boom, veloce, veloce Nascondi il cestino Nascondi io Boom Non mi troveranno mai Perché la mia macchina è lontana Cheat Cosa c'è scritto qui Acquisisci esperienza Rumando e tornare a casa con il bottino Tira più Tira più esperienza Ok Sai che tra l'altro forse Sarei riuscito a scappare anche Proprio fisicamente con Con la macchina Che ansia Che stanno a fa' questi Ci sono due macchine della polizia Oh, 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 è qua davanti Non mi ha visto? Impossibile che fai Non guardi nel cestino Nel coso dell'immondizia Non guardi Quella macchina Che cosa? Ma non c'è nessuno là dentro Scusa, era uscito Oh, oh, ho solo una stella ora Perché c'è una stella? Sta finito tutto? Hanno arrivato le sirene Ah, non è vero Le hanno rimesse In seguito alla polizia Che succede? Nasconditi nell'armadio Cassonetto sotto il letto Come puoi aspettare sotto il letto? Ti puoi nascondere sotto il letto? Che vuol dire? Ecco là A posto Posso uscire? Buongiorno polizia Tutto bene? Leviamo i piedi di porco Così nessuno ce l'ha con me L'hai già tutti contenti, no? Era appena la mia La mia bella macchinuccia Che avevo parcheggiato qui Per non restare sospetti Eh E si torna a casa, ragazzi Si torna a casa Missione compiuta Certo, non so quanti soldi Non mi hanno dato soldi per sta roba, vero? Mi sa di no Ma andaci Un bel quartiere questo, eh Alcune case fanno un po' schifetto Ma per il resto è un bel quartiere Torniamo a casa Vediamo chi ci dice Vinny Ma penso che per questo video Possa essere tutto De Vinny Eccolo Ah, niente Ma questa è tipo la storia Cioè, io pensavo fosse un tutorial infinito E ce l'ho fare così E sbloccare Aprire serratura di livello 2 Hai capito? Vabbè ragazzi Che faccio? Non provo? Proviamo Allora, devo fare così Ok, devo bloccarlo Devo bloccarlo quando è giù Così E bloccarlo Ok Voilà Capito Eh, c'è tanta roba da fare Questo abbiamo capito Ma per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Chissà se un giorno potrò mai giocare a freccette Ci vediamo nel prossimo video qui sul canale Iscrivetevi se ancora non avete fatto Cliccate sulla campanellina Per non perdervi nessun video Da Thief Simulator è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti